Ciao a tutti! Gli acrilici sono veramente dei colori super versatili. Oggi vediamo perché gli acrilici sono veramente colori da mare. I colori acrilici sono veramente colori super versatili. Si possono utilizzare per fare tantissime cose in tantissimi modi. Oggi vi racconto perché sono veramente dei colori da mare. Il primo motivo per amare i colori acrilici è veramente che potete variare la tecnica a 360 gradi. Gli acrilici si possono utilizzare come acquerelli, si possono utilizzare per il materico, si possono utilizzare aggiunti a qualsiasi sostanza, si possono utilizzare come impasto. Quindi gli acrilici si possono utilizzare non solo per assomigliare alla pittura d'olio, non solo per assomigliare alla pittura ad acquerello, ma in tantissimi modi e dare veramente sfogo alla vostra fantasia. Il secondo motivo per amare gli acrilici è che questi sono veramente dei colori stabili nel tempo. Che cosa vuol dire? Che quando li darete sulla vostra tela non creeranno delle crepe, non coleranno mentre li date, non faranno, non si muoveranno. Il colore addirittura, quello che date, è lo stesso tono, lo stesso colore che vi ritroverete quando è asciutto. Quindi sono veramente dei colori semplici da usare e veramente stabili nel tempo. Che è una grossa soddisfazione vedere il proprio dipinto anche a distanza di tanti anni. Anche i pigmenti proprio dell'acrilico sono dei pigmenti molto stabili, motivo per cui i vostri colori vividi, belli, vivaci, rimarranno tali anche nel tempo. Un altro motivo per amare la tecnica ad acrilico è che i colori acrilici sono colori ad acqua. Non hanno bisogno di, per mescolarsi, di solventi, quindi non avrete odore nei vostri lavori o dove li utilizzate. Non avrete pericoli quindi di sostanze che si possono infiammare e neanche di cattivo odore. I colori acrilici sono veramente molto versatili e si possono utilizzare su qualsiasi tipo di supporto. Aderiscono ai supporti in maniera impeccabile, quindi non avrete timore che si possa staccare l'acrilico dalla tela, motivo per cui se dipingete su una tela senza l'intelaiatura potrete arrotolarla senza timore che i colori acrilici crepino oppure che si stacchino. Non solo, naturalmente potete dipingere su legno, su plastica, su qualunque tipo di supporto. Un altro motivo per cui dovreste amare la pittura con i colori acrilici è che una volta asciutta questa diventa impermeabile. Che cosa ci permette la pittura impermeabile? Ci permette innanzitutto di portare i nostri dipinti in cucina, nei bagni, in ambienti umidi o in ambienti che hanno caratteristiche particolari per cui altri dipinti si rovinerebbero. Perfino se si sporcano i nostri dipinti possono essere ripuliti tranquillamente. Un'altra caratteristica dei colori acrilici è che asciugano veramente in fretta. In questa cosa, in questa caratteristica, molti vedono un difetto. In realtà io sono convinta che sia il pregio maggiore perché ci consente di creare i nostri dipinti all'interno di un periodo veramente molto breve. Quindi di vedere finiti i nostri lavori in tempi non troppo lunghi. Ma naturalmente se questo è un difetto che vedete nel colore acrilici, oggi esistono veramente tantissimi medium che si chiamano medium ritardanti che mescolate i nostri colori acrilici fanno in modo che appunto si venga ritardata l'asciugatura. Questi sono i miei motivi per amare la pittura con i colori ad acrilico. E voi perché amate la pittura con i colori acrilici? Raccontatemela qua sotto naturalmente nei commenti. Vi ricordo di iscrivervi al mio gruppo facebook Dipingere con Daria per raccontarmi tutto quello che fate in pittura, per farmi vedere tutti i vostri lavori e naturalmente per farmi tutte le domande di cui avete bisogno per progredire con le vostre tecniche di pittura, sia che siano acrilici, sia che siano acquarello, sia che siano pitture ad olio. Se il video ti è piaciuto lasciami un pollice in su e naturalmente iscriviti al mio canale per rimanere sempre sempre aggiornato su tutto quello che faccio.